La Villa Comunale di Chieti tornerà ad ospitare domenica prossima la Festa dei Popoli, giunta alla sesta edizione. L'evento vuole essere uno strumento per aiutare a vincere l'odio, l'intolleranza e il razzismo. La linea scelta è quella dello scambio fra identità culturali, nazioni, fedi, orientamenti e persone diverse, ma che condividono il sogno di vivere in un luogo dove diversi popoli presenti si incontrino e si riconoscano fratelli. Il coordinatore della manifestazione è Mario Livieri. Quest'anno il titolo è stato votato sul web addirittura a tutti i popoli insieme per la pace. È un'occasione di incontro che troppe volte nella nostra vita è un po' scontro con questi fratelli migranti. Invece noi abbiamo deciso di fare un incontro nel pieno rispetto dei diritti e dei doveri e quindi un incontro dove andremo a conoscere quello che c'è dietro il percorso migratorio e andremo a conoscere veramente chi sono questi amici che noi chiamiamo fratelli migranti. Spesso, ha detto Alessia Davide, l'integrazione non si concretizza perché gli italiani non conoscono i motivi che spingono i migranti a lasciare il loro paese. Quindi abbiamo chiesto a questi migranti in occasione della festa dei popoli di scriverci proprio su carta quelli che sono i reali perché e poi verranno tutti quanti attaccati su un barcone enorme che rappresenta proprio la barca di Lampedusa che spesso accoglie questi migranti in viaggio. I perché sono tanti e spesso non sono legati a motivi turistici o semplicemente di curiosità ma sono legati a delle ingiustizie che loro vivono nei loro paesi come lo sfruttamento, come la mancanza di diritti che costringe loro quindi a lasciare paesi, parenti e cose care per venire qui a cercare una vita migliore. Grazie a tutti.